Si è appena concluso un affollatissimo convegno, il tema era molto interessante, si parlava di biogasse e biomasse. Il convegno era organizzato da Gruppo 24 Ore Media e la moderatrice era Dulcinea Bignami, a cui do il benvenuto. Buongiorno. Grazie. Cosa è emerso in particolare ed interessante da questo convegno dove c'era tantissima gente? Il problema principale è il fatto che le aziende agricole devono avere come opportunità questa novità che sono le biomasse e il biogas, che possono rappresentare una vera e propria integrazione al reddito, tante volte indispensabile per il mantenimento dell'azienda agricola. Le regioni che hanno investito di più in questo settore sono la Lombardia, oggi l'Emilia Romagna e comunque si sta diffondendo un po' in tutta Italia. Ultimamente sono state emanate delle normative che ne regolano la gestione, ci sono ancora tante cose da chiarire. Un convegno come questo ha questa funzione di creare un po' di chiarezza alla gente, agli operatori che infatti sono intervenuti, direi molto numerosi. A proposito di chiarezza, quello che è emerso è che c'è un'informazione un po' frammentaria su questo argomento, come mai? Perché si tratta di impianti che vanno a influire sul territorio, la persona comune ne viene a conoscenza spesso in maniera distorta, non si rende conto del vero impatto che possono avere, anche perché ci sono stati anni in cui si è assentito anche un po' di speculazione in effetti, che ha portato a poca chiarezza. Dopodiché spesso l'informazione non è stata precisa, non è stata fatta da tecnici veri e propri, tutto questo ha creato confusione, su questo sicuramente è vero. Si è parlato anche di incentivi, a che punto siamo su questo tema? Perché è uscito un decreto a brevissimo, se ho capito bene. Sì, è uscito un decreto a luglio, molto recente, dal primo di gennaio del 2013 la situazione cambia, il biogas verrà incentivato meno di quanto lo è stato negli ultimi due anni, questo crea un po' di sconcerto negli operatori, ma dal convegno è venuto fuori che conviene ancora per l'impresa agricola puntare sul biogas e soprattutto sulle biomasse. Un altro aspetto che è emerso, soprattutto in uno degli interventi, è il fatto del ritardo un po', cioè l'Italia sembrava partita molto bene e poi forse si è fermata, cosa è successo? Questa è una cosa che ci accomuna a tanti altri settori, l'Italia spesso non recepisce gli input che vengono dall'estero, l'Europa vorrebbe che noi puntassimo su queste tecnologie e come al solito ci siamo un po' persi, ecco questo è un problema della nostra politica, direi che è questa la vera motivazione. Un'ultima domanda, si è parlato di reddito per chi utilizza il biogas, ma si è parlato anche del fattore ambientale, la situazione non è buona, la questione è proprio inquinante in sé per sé? No, questi impianti, questo modo di investire dell'agricoltura oggi come oggi rende l'agricoltore un tutore dell'ambiente, non è vero che questi impianti sono inquinanti, anzi hanno una valenza ambientale molto importante, oltre che economica, è il discorso che dicevamo prima, bisogna cercare di farlo capire alla gente, a chi vive in campagna, ma anche a chi vive in città, perché in realtà hanno una valenza ambientale, consentono di migliorare anche la condizione ambientale. Grazie a tutti.